In sala c'è una persona, signori, attraverso questa persona che tantissimi anni fa mi battezzò addirittura, ma non quando ero bambino in fasce, quando ero già abbastanza grandicello e naturalmente presentavo i miei giochi già in teatro, pensate un pochino, io ho tantissimi anni che faccio questa professione, ma vorrei fare un applauso alla persona che mi ha battezzato perché mi ha dato il suo nome e da quel momento mi sono chiamato naturalmente Silvana, si tratta della splendida, magnifica e mai dimenticata, ma sempre bellissima, Silvana Pampanini. Eccoci, bel applauso, forte che se lo merita! Grazie.